Arte e musica, concerti d'agosto e una mostra di Ubaldo Bartolini che segue quella di Giuseppe Papagni. Sono state presentate ieri le iniziative organizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano che prenderanno il via domani a Palazzo Bracci Pagani con una mostra dell'artista marchigiano. Verranno esposti i suoi lavori dedicati ai paesaggi rappresentativi del periodo che va dalla fine degli anni 60 ad oggi. Sì, sulla scia dell'ormai consueta rappresentazione di mostre presso la nostra Dianar Gallery Palazzo Bracci Pagani anche quest'anno nonostante la situazione vogliamo essere presenti con una mostra importante con un nostro conterraneo, un nostro marchigiano Ubaldo Bartolini e quindi dal sabato ci sarà l'inaugurazione alle ore 18 di questa mostra importante che rimarrà aperta fino alla fine di settembre. La Fondazione, che a causa dell'emergenza sanitaria ha dovuto annullare il programma delle Domenica al San Domenico ha deciso di proporne uno alternativo sempre dedicato all'arte e alla musica. In tutte le iniziative, compresa la mostra di Bartolini, l'ingresso sarà libero ma nel rispetto delle norme anti-Covid l'accesso sarà consentito ad un numero limitato di persone per garantire il distanziamento interpersonale. Nel mese di agosto siamo presenti con tre concerti, nelle domeniche del 9, del 23 e del 30 di agosto quest'anno ci sarà anche la seconda rassegna di arte e musica nelle serate di sabato 22 agosto e di sabato 29 agosto. Sabato 22 agosto ci sarà il professor Rodolfo Battistini che parlerà del sodalizio della Vergine e del Guercino e il musicista Perrucci suonerà alcuni pezzi con l'organo e invece il 29 di agosto il nostro consigliere è il dottor Claudio Giardini, ci parlerà del miracolo del pane e dei pesci, del guerrieri e ci saranno due musicisti Caterina Bartoletti e Matteo Ottaviani. L'orario è alle 21 e 15 inizieranno le rappresentazioni.